Oggi facciamo il punto un po' sulla scuola, ma soprattutto sul personale scolastico. Ricordo che qualcuno ha scritto che la scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo. È una definizione perfetta, ma leggendo questi dati che adesso andremo a leggere, effettivamente c'è da stare un po' preoccupati per il nostro avvenire. Parliamo soprattutto della precarietà nella scuola. Nel 2023 su 943 mila docenti in servizio sono oltre 234 mila e 500 gli insegnanti con contratti a tempo determinato. Il 24% del totale, ed erano il 12% nel 2015. La condizione dei docenti di sostegno è altrettanto grave perché sono passati dal 29% del 2015 di precari al 59% nel 2023 e non fa eccezione neppure il personale ATA, cioè gli addetti all'amministrazione, ai servizi tecnici e ausiliari, in cui uno su cinque è a contratto a tempo. Sono dati emersi dal dossier scuola della UIL. Giuseppe D'Aprile, segretario nazionale UIL Scuola, è con noi, ben trovato. Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioscoltatori. Buongiorno D'Aprile, senta, noi abbiamo sentito più volte delle proposte per stabilizzare il personale della scuola, ma che fine hanno fatto queste proposte? Guardi, come diceva lei, abbiamo dimostrato con dati ministeriali, non dati UIL, che le giornate concorsuali distribuite negli anni non sono servite a rendere stabile il lavoro che si fa a scuola. Tra gli insegnanti uno su quattro è precario, nel personale ATA uno su cinque è precario. Questo nonostante, solo durante le campagne elettorali, riecheggia come un mantra la stabilizzazione del personale precario. Quindi abbiamo dimostrato che con i numeri non si gioca, perché i numeri sono reali, le situazioni politiche da affrontare prima delle soluzioni tecniche che sono elevate fallimentari, devono scaturire dalla presa d'atto che questo sistema, così come il concepito si è noto nel 2015-2023, quindi compresa anche le procedure concorsuali e soprattutto le politiche di investimento nei riguardi del precariato, sono state fallimentari. Lo dicono i numeri, basta giocare con i numeri. I precari, prima di essere precari, sono delle persone che vivono una quotidianità fatta, direi, di disorientamento senza nessuna alcuna certezza. Ecco, il problema... Anche così, notazione con un impatto negativo sugli studenti che si trovano spesso a cambiare insegnanti. Assolutamente, assolutamente. Senta, voi parlate di un problema nel sistema di reclutamento. E' chiaro che se ogni anno si assumono, nel caso dei docenti insegnanti, su un numero di posti che non corrispondono al numero dei posti vacanti disponibili, ai quali si aggiungono i posti relativi ai pensionamenti, il numero di precari cresce di più. Così anche per il personale ATA non si assicura il turnover. Continuiamo a bandire concorsi, con la lentezza dei tempi procedurali, pensate che ancora ci sono in essere concorsi del 2020 ancora non terminati, ai quali legittimamente facciamo partecipare i neolaureati, però alla stessa stregua del personale che, pur vantando numerosi anni di precariato, potrebbe risultare non vincitore, pur se come un'esperienza consolidata e maturata nel tempo. Quindi precariato su precariato. Quindi, con gradatori in essere, in alcuni casi ancora da smaltire, procediamo a bandire concorsi su concorsi senza capire che, senza la stabilizzazione del personale, si pregiudica, come diceva la sua collega, la qualità della scuola, la continuità didattica degli alunni che invece dovrebbe essere garantita e inevitabilmente, se non secondo il nostro punto di vista, l'efficienza della stessa scuola che si ripercute davvero sui nostri alunni e quindi sul futuro di questo paese. Ed è sulla preparazione culturale dei giovani, come si diceva, proprio in un momento in cui si dovrebbe puntare tutto sul binomio istruzione-formazione. Perché, lo dicono tutti, è uno strumento fondamentale per accedere al lavoro. Ma infatti la domanda è, davvero crediamo che attraverso la scuola statale passi il futuro di questo paese? Abbiamo gli strumenti per dimostrarlo. Abbiamo fornito le soluzioni. Le soluzioni ci sono, passa la volontà politica. Ecco, se davvero crediamo in questo. Nel vostro dossier c'è un dato che volevo sottolineare, poi ovviamente lei ce lo confermerà. Dite che per stabilizzare 250.000 precari basterebbero 180 milioni di euro. Esatto. Con un costo per unità di personale di 716 e rotti euro. Esatto. Sarebbe una cifra abbordabile. Questo è uno studio anche del nostro ufficio studi, che è partito dall'analisi dei livelli stipendiali tra personale precario, personale assento determinato e soprattutto quanto costa licenziare un precario il 30 giugno e riassumerlo il primo di settembre perché quel precario perseguirà la cosiddetta disoccupazione. Quindi, partendo da questo presupposto, la stabilizzazione per 250.000 sono dati che, ripeto, non nostri, basati sul confronto del Ministero dell'Istituzione, Finanze, INC e Contratto Scuola. Quindi dati reali. Stabilizzare 250.000 precari comporterebbe, calcoli alla mano, una spesa di 180 milioni di euro, 715 euro per ogni precario. E permetterebbe numerosi benefici. Se noi pensiamo che le finanziarie vanno da 25 a 35 miliardi, prendere 180 milioni si potrebbe fare. Sì, è una cosa possibile. Ma questo aggiungo che la stabilizzazione per personale precario potrebbe diventare volano di crescita per l'intera economia del Paese. Non c'è più. Un doppio vantaggio. Per esempio, il primo è la certezza di una scuola con personale in servizio già dal primo settembre, con tutte le repercussioni positive. E poi è un'economia che trova uno slancio appunto dagli oltre 200.000 precari che iniziano a vedere un possibile futuro certo e non incerto. C'è anche un fatto di dignità proprio della professione. C'è molta gente che tutto sommato non ama percorrere questo tipo di attività proprio perché è ben poco valorizzata. Una mole di precariato che direi è unica nel pubblico impiego. Unica. Noi l'abbiamo visto nella sanità, ci sono molti professionisti che passano dalla sanità pubblica alla sanità privata. Succede anche questo nella scuola? Ci sono persone che abbandonano la scuola pubblica per dirigersi verso strutture private? E' chiaro che se nelle leggi di bilancio si continuano a finanziare le scuole private prima di dare priorità alla scuola statale, l'interesse delle famiglie potrebbe virare in tal senso. Come sta succedendo, come dice lei, dal fronte nella sanità? Lo studio gratuito è garantito dalla Costituzione, ricorda tutti, e lo Stato deve essere garante di ciò, di laicità, di gratuità e di pluralismo che per quanto ci riguarda sono ancora i cardini appunto della nostra scuola costituzionale. Sono i cardini di una società moderna e contemporanea, sanità e scuola sono determinanti. La sanità dovrebbe servirci dai tempi, invece non è così. Giuseppe D'Aprile, segretario nazionale UEL Scuola, grazie Francesco Ventimiglia. A voi.